Buonasera, ben trovati al nostro TG Sport. Partiamo con il calcio, con la Serie D, perché ci siamo. Domani sera si giocherà il derby Prato-Pistoiese. In campo ci sarà una Pistoiese sicuramente rivista in quanto a formazione dopo le ultime partenze. Sentiamo allora l'allenatore degli arancioni, Luigi Consonni, alla vigilia di questa storica sfida. Ci siamo. Torniamo a parlare di calcio giocato in casa Pistoiese dove sale l'attesa per lo storico e importante derby contro il Prato. Mercoledì ore 19.45 fischio d'inizio a lungo Bisenzio. Giorni particolari per gli arancioni, giorni di partenze ma anche di arrivi o meglio di ritorni. Venerdì abbiamo riproposto la settimana per arrivare alla partita di domani. Abbiamo fatto un'ottima rifinitura oggi. Domani faremo lo sveglio muscolare prima della partita. La squadra sta bene, ha voglia di tornare in campo. Perché ovvio poi quando si rinvia una partita per cause, cause ovvio, cui noi e io personalmente siamo tutti vicino alle persone che in questo momento hanno perso tutto. Sicuramente si ha la voglia di tornare in campo e di voler dimostrare che la Pistoiese ha voglia e soprattutto ha quell'attenzione e quella cattiveria e agonistica giusta per voler risalire un po' la classifica e fare punti importanti. Ha maggior ragione domani che in un derby, in un derby importante che può essere sempre una gara a sé. Mister Consonni dovrà inevitabilmente rivedere la formazione, molti cambiamenti nei diversi departi, in forze da via in difesa. Punto interrogativo su Macri, assente Florentin, convocato in nazionale. Prato è una squadra che nei giovani cerca a volte un po' l'incoscienza, quindi questa voglia di fare al posto di star lì, aspettare passivi quello che può succedere. Deve essere una squadra propositiva, una squadra che non vuole mollare mai su ogni pallone, che vuole vincere nel duello in mezzo al campo, che ha voglia di non prendere il gol ma che a sua volta ha voglia di volerlo fare. Stando attenti a non prenderle, perché abbiamo visto che il Prato è una squadra che da questo punto di vista ha fisicità, ha gente tempista. Se dovessimo riuscire a tesserarlo sicuramente è un giocatore Davide che ritorna in una piazza dove ha fatto bene, che io stimo. Un giocatore importante, che ci dà per le sue caratteristiche quell'imprevedibilità in più. Inutile dire che questi tre punti valgono doppio. Eh sì, valgono doppio perché è un derby, valgono doppio perché vogliamo dare una gioia importante ai nostri tifosi e valgono doppio perché soprattutto valgono tre punti, però potrebbero dare un morale, un'iniezione di fiducia importante per le prossime partite. Una sfida che avrà uno scenario anche particolare perché i tifosi arancioni già da giorni hanno annunciato di non essere presenti allo stadio, sia in rispetto di chi è stato gravemente colpito dall'alluvione dei giorni scorsi sul territorio, sia per i pochi posti, solo 100, riservati appunto alla tifoseria ospite. Cento partite sulla panchina della Pistoia Basket per coach Nicola Brienza. Domenica scorsa contro Reggio Emilia al Palabigi, giornata particolare per il coach di extra Pistoia Nicola Brienza che ha raggiunto il traguardo delle 100 panchine in bianco-rosso, condottiero delle ultime due stagioni in A2 e ora alla guida in Serie A. Cento presenze condite da un bilancio di 68 vittorie e 32 sconfitte. All'interno ci sono anche le partite di Supercoppa e Coppa Italia che lo hanno fatto entrare di diritto nella storia del basket pistoiese, avendo collezionato due trionfi importanti. Il primo dopo poche settimane dal suo arrivo in quel di Lignano-Sabbiadoro con la vittoria della Supercoppa di A2 e poi la promozione in Serie A dello scorso giugno. Brienza ha sempre messo al centro del progetto tecnico un gruppo coeso, la grande applicazione difensiva e la richiesta ai propri giocatori di non mollare un centimetro sul parquet. La prima stagione di coach Brienza in bianco-rosso si è conclusa con gara 5 di semifinale play-off contro Verona, poi promossa in A1, al termine di un cammino comunque esaltante. Trionfale invece la seconda stagione 2022-2023 con regular season e fase d'orologio vissute sempre ai vertici, fino alla cavalcata nei play-off che ha permesso all'allora Giorgio Tesi Group di superare Piacenza, Cantù e Torino con la notte da sogno della conquista della promozione in Serie A dello scorso 17 giugno. E adesso per lui c'è l'avventura in A con l'obiettivo della salvezza, avendo sempre al fianco il suo staff che lo segue fin dal primo giorno che è arrivato a Pistoia. Complimenti ancora a coach Nicola Brienza. E continuiamo a parlare di basket, andiamo in Serie B dove continua il momento d'oro delle due squadre di Montecatini. Non deludono nemmeno questa volta le due corazzate di basket di Montecatini che escono vittoriose anche dalla nonna giornata del Girona A in Serie B nazionale. La Fabbo vince contro Avellino, squadra ostica sulla carta e nei fatti, capaci di rientrare dopo uno svantaggio di 13 punti all'intervallo e sfiorare la beffa ai danni dei rosso-blu, e invece così non è stato. Vuoi per un roster, quello termale, che sta imparando ad uscire indenne dai momenti di sofferenza? Vuoi per una rimonta che sul meno uno fino agli ultimi secondi non ha trovato il suo compimento definitivo, complice un po' di stanchezza per i padroni di casa? Così l'Aerons esce vittoriosa per la settima volta in stagione, aggiudicandosi la testa della classifica in compagnia della Pielle Livorno che ha trionfato nel posticipo in quel di Legnano. I campani erano una formazione d'alta classifica e prendere il loro scalpo ha portato altro entusiasmo tra le file dei termali, condotti da un Capitan Natale in grande spolvero con 18 punti, sempre più trascinatori degli aironi. In questa stagione lo stesso discorso vale per Gemma, che si aggiudica alla contesa contro la Bacari Piacenza dopo 40 minuti di lotta. Al Palaterma ha regnato la parità per 20 minuti, poi è arrivato lo scatto fulmine dei rosso-blu nel terzo quarto, che ha regalato di fatto i due punti a coach del Re e i suoi ragazzi. Una vittoria che ha consolidato il secondo posto per i termali e li conferma tra le rivelazioni di questa Serie B nazionale, in cui la solidità può essere considerato l'ingrediente segreto di un roster ben costruito. Tuttavia il DS del rosso-blu Guido Meini ha dichiarato di voler guardare al mercato nelle prossime settimane per inserire qualcuno, data anche la lunga assenza di Simone Angelucci e quella più breve di Saverio Mazzantini. L'aggiunta di un giocatore andrebbe a significare molto per una squadra come Gemma, sicuramente la voglia di continuare sugli stessi binari, una stagione che ha portato tante serenità e d'entusiasmo al club, dopo lo scorso anno, fatto di più bassi che alti. Montecatini quindi torna ad essere la città regina del campionato, con una squadra al comando e una in scia, guardando sempre avanti per regalare a tutti, termali e non. Un derby alla dodicesima giornata che andrà a colmare un'altra pagina di storia, e una passione per il basket che in città è stata, è e sarà per sempre protagonista. Un po' di rally, la Jolly Racing Team e Gianandrea Pisani sono stati protagonisti a Monza, vittoria di classe Rally 4 allo Special Rally Circuit. Il pilota porta colori della scuderia pistoiese, era il debutto sulla Renault Clio Rally 4 e alla prima collaborazione con la copilota Elena Neri, ha conquistato il primato attraverso una condotta priva di sbavature sull'esemplare equipaggiato con pneumatici Michelin. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia per quanto riguarda lo sport, però voi continuate a seguirci per tutti gli altri ulteriori aggiornamenti e a tutti voi una buona serata.